ma davvero vogliamo vincere le partite senza attacco in un momento come questo dove alla prima cazzata ripigliamo gol ragazzi ci manca il nostro problema è l'attacco è l'attacco un gol fatto in contropiede ma se dobbiamo fare un'azione non ho visto una volta la juventus impossessarsi per intero dalla metà campo avversaria come cazzo vogliamo vincere le partite così che ogni fesseria pigliamo gol vabbè dai ragazzi prepariamoci una stagione di merda perché sarà una stagione di merda questo sarà un anno fra i peggiori un anno degno dei settimi posti se non si fa più giù anche al momento altro che settimi siamo penultimi al momento vabbè è vero che in due partite abbiamo trovato milano e napoli ma abbiamo trovato anche udinese e empoli sì abbiamo trovato milano e napoli ma con udinese e empoli devi fare sei punti se vuoi avere grosse ambizioni ma questa è una squadra la cui massima ambizione la qualificazione all'europa league ve lo dico senza tema di smentita l'inter è distante anni luce non ci non ci facciamo illusioni perché qua è peggio di quello che credevo la partita è stata dignitosa la partita è stata dignitosa si è preso un gol su su un malinteso su una mancata marcatura locatelli e rabbio che dormono su rebic si è preso un gol va bene ma può capitare ripeto ma se tu hai un attacco che fa gol te ne freghi di queste situazioni te ne freghi di queste situazioni real che ha vinto quattro cempio sui cinque anni di questi gol le pigliava caterve però qual era il suo vantaggio ne faceva caterve questo è quanto e ragazzi e quest'anno andrà così e ficcatevelo nel cervello quest'anno è durissima quest'anno davvero pareggiamo una uno in casa con un milano aspettate che potevamo anche perderla alla fine alla fine dobbiamo ringraziare anche scesni per quel che ha preso su calulu cioè calulu che si rebic leao romagnoli cioè senza il loro miglior difensore senza i loro due migliori attaccanti ma quando finirà questa schifezza quando finirà abbiamo una squadra senza personalità punto 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 è questo per dire a chi chi pensava che con allegri si tornava a vincere ma quale casomai quest'anno si smette di vincere non certo per colpe di allegri qui purtroppo mi tocca dirlo mi tocca dirlo la campagna acquisti di quest'anno mi puzza tanto mi ricorda tanto l'accordo della ferrari con la fia sul motore non lo so non lo so perché veramente non prendere donna rumma zero un delitto non prendere pianis praticamente cacciato a pedate nel culo da barcellona è un delitto sapendo chi abbiamo a centrocampo in attacco sì giocate ma torto il gol di morata ragazzi abbiamo mai tirato in porta no ditelo non che il milan abbia fatto meglio e attenzione ma abbiamo fatto un tiro in porta oltre al gol di morata no perché a me piace analizzare le partite sì si è vista un po più di attenzione un po più di grinta un po più di voglia certo che si è vista certo che si è vista ma ragazzi questa è una squadra che non ha né capo né coda e sapete che c'è dobbiamo ringraziare quei due in difesa se non l'abbiamo persa ragazzi questa è una squadra ve lo dico da adesso che per tornare a vincere qualcosa vuoi almeno due tre anni vuoi almeno due tre anni perché questa squadra così è da sesto settimo posto non di più non di più è una squadra leggerina è una squadra che non ha peso in attacco è una squadra che non ha personalità a centrocampo è una squadra che se togli bonucci e chiellini qui si pigliano caterve di gol caterve di gol se togli bonucci e chiellini cioè vi rendete conto che dobbiamo stare appesi a un classe 84 un classe 87 vi rendete conto o no eh vi rendete conto quanti danni ha fatto questa dirigenza ultimamente sì lo so è la stessa che ci ha portato nuove scudetti e la ringrazieremo ragazzi ma alla fine si è ritirato anche platini alla fine si è ritirato anche platini io onestamente non vedo cambiamenti altri se si esclude l'arrivo di arriva bene ex ferrari e questo mi fa pensare che quando successo l'anno scorso con suarez non vorrei ci sia stato un accordo sotto banco per non fare mercato perché questo mi sembra ed è ancora peggio di calciopoli almeno quella fu la luce del sole quella la porcheria che fecero ho poco altro da dire ragazzi ho poco altro da dire forse per mole di gioco si meritava di vincere ma se non segni non vinci chiudo qua mi gusto l'indicar ma avete rotto il cazzo e complimenti a chi è più forte punto io ieri ho visto l'inter quello è poco che l'ho vista veramente mi rodeva il culo ciao se penso soltanto come erano ridotti loro due tre anni fa e come eravamo messi noi non voglio più dire nulla grazie a tutti